Stamattina dei tecnici della protezione civile nazionale sono venuti qui a San Martino per constatare di persona quelli che sono stati i danni cagionati dall'evento del 21 dicembre dell'anno passato. Abbiamo tenuto un incontro importante operativo al COC dove abbiamo illustrato tutte le immagini che attraverso il nostro sistema di videosorveglianza siamo riusciti a mostrare ai nostri tecnici in modo da poterli far rendere conto di quella che è stata la situazione nell'immediatezza dell'evento ma soprattutto nei giorni a seguire. Abbiamo illustrato anche le ragioni di quanto è accaduto e questo incontro di fatto è propedeutico al riconoscimento dello Stato di Calimità Naturale da parte del Consiglio dei Ministri.